...perché avevi sempre schi rumori di acqua... Vittorio mi erano andate con le lampadine così... ...non c'ho... ...sì, non affrontavo... ...è arrivati là... ...è una balliera... ...ha voglia di sentire se ti sembrano già abbastanza molli... ...sì... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti